in quel ruolo. Vabbè, vediamo chi è, no? Vediamo chi è. Ma ragazzi, dov'è? Ragazzi, c'è il portiere della Juve qua? Sì. Ah, ciao. Piacere, sono Corrado. Ti volevo chiedere un autografo per mio fratello, ti spiace? Grazie. Siciliano? A Salvatore, Salvatore. No, è siciliano, no? Sì, è siciliano. Perché? Si sente? Ma senti un po' come la Serie d'Ovo, come va? È buona? E' la mia fianza, la mia fianza di Buffon? No, ma tu non sei il Buffon? No. Non sei l'allenatore, il portiere della Nazionale? No. Ma vabbè, ma allora, ma allora non mi serve. Una volta, va. Saluto la telecamera, Stefano e Fabio. Sì. Ti so, ti stavo mandando, eh? Ti sei salvato, eh? Ha cambiato colore. Ha, 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 ha Grazie a tutti.